Si preparino, cambia numero uno, si preparino, si arresentino, per la finale assoluta oggi a seguire per la finale assoluta oggi, a seguire per la finale assoluta oggi a seguire per la finale assoluta oggi Si preparano il 4-3, lo tolto da teo, Garitani e Stefano Seguire la chiamata, gaffa numero uno, per la finale assoluta oggi a seguire per la finale assoluta oggi Si preparano il 4-3, lo tolto da teo, lo tolto da teo, lo tolto da teo, lo tolto da teo, lo tolto da teo Si violaio il 3-3, lo tolto da teo, lo tolto da teo, lo tolto da teo, di Agnuna, i Rennes e papi e Arga Marta si pagano! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.